Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Scandicci nelle due direzioni e coda verso sud tra BV1111 e Firenze Scandicci, tutto per traffico intenso. Sulla Firenze Mare rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e BV1111 e 2 km di coda per viabilità esterna che non riceve tra BV11, Firenze Nord e Firenze Peretola, il tutto in direzione di Firenze. In Vipili restano 4 km di coda per incidente tra Ponte d'Era Este e Ponte d'Era Ovest-Ponsacco verso Livorno, in carreggiata opposta rallentamenti per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Per chi proviene da Firenze inoltre coda in uscita a Firenze Scandicci. A Firenze traffico sostenuto sulle principali elettrici in ingresso città. Per la canteristica segnaliamo che cambiano la viabilità alla sosta e il TPL in zona via Maragliano-San Jacopino da questa settimana in programma alcuni lavori all'incrocio con Via Leredi e Via Dinopoli tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!